ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video primo video registrato nell'anno 2022 e ne approfitto e colgo l'occasione per farvi tantissimi auguri di buon anno io sono ufficialmente tornato dalle vacanze come avete potuto vedere non vi ho lasciato senza video l'unica cosa che avevo contato un giorno di stacco cioè il 31 mi sembra ma purtroppo ho fatto un casino con la programmazione non è uscito l'ultimo video il video che è uscito oggi avreste dovuto trovare ieri per cui abbiate abbiate pazienza e chiedo venia non vi sto a rubare altro tempo quindi ci spostiamo sul gioco perché dovremo fare due o tre cosette prima di mandare avanti appunto il tempo e progredire con le stagioni di raccolto del frumento andiamo a vedere se appunto tutti i punti di spawn sono a posto prima di procedere vediamo un attimino come si evolverà questa puntata quindi bando alle ciance ragazzi spostiamoci subito sul gioco cuffie sulla testa e si parte per un'altra bella giornata di registrazione sul farming 22 allora io sono qui in azienda prima di andare avanti bisogna ricordarsi di dico ricordarsi di sottolineo consegnare tutta l'attrezzatura perché sennò ci partono veramente un botto di soldi allora io ho visto che lo spazio di immagazzinamento dell'olio di girasole è praticamente pieno quindi ci sono 9999 litri veramente c'è il punto di spawn perché non avendolo mai liberato purtroppo purtroppo è arrivato il momento di farlo no purtroppo perché vuol dire che allora lavorazione dell'uva frantoio allora visitiamo un attimino il nostro bel frantoio se di fatti avevo già liberato ok questi qua allora spostiamo tutto per quanto riguarda i bancali di olio poi quando arriveremo a in stagione scusate della vendita dell'olio provvederemo a togliere tutto ok liberiamo appunto l'olio tutto l'olio perfetto ok infatti ora sta spawnando il l'olio di girasole allora cerchiamo di metterlo un attimino messo meglio possibile cercando oh porca paletta spawnano e non abbiamo mai liberato questa cosa qua ragazzi quindi è buono che abbiamo perso anche della produzione perché erano pieni eh sì mi sa che abbiamo fatto una piccola cavolata allora facciamo così che andiamo un secondino in farm e andiamo a prendere un attimino l'autocaricante così almeno portiamo a casa tutti sti bancali perché è una cosa che non si può vedere quindi andiamo a prenderci il nostro bel trattorello ragazzi allora eccoci arrivati in fabbrica togliamo subito vabbè anche se li mischiamo è lo stesso però l'importante è levare appunto tutto sto casino perché non non se può veramente vedere allora tutto l'olio di girasole lo abbiamo preso ci mettiamo bene in posizione e lo carichiamo peccato per questa texture ballerina di questo rimorchio speriamo che venga aggiornato il più possibile allora togliamo tutti i bancali leghiamo ok niente ce li stiveremo in magazzino è sotto il nostro bel fienile tanto così almeno noi possiamo progredire nella produzione dell'olio dei vari oli quindi tanta tanta roba purtroppo vedete mi sono dimenticato di svuotare la fabbrica e sicuramente abbiamo perso della produzione ragazzi sicuramente guarda mi ci gioco quello che volete allora visto che guardando appunto lo stato della fabbrica non abbiamo attivato la produzione della colza dell'olio di colza lo attiviamo adesso perché intanto gli 8000 litri ce li avevamo messi quindi ed è giusto anche consumarli producendo l'olio almeno riusciamo a guadagnare anche da lì quindi direi quindi non abbiamo nient'altro da fare se non magazzinare appunto tutta la nostra merce adesso vediamo un attimino non so se farlo off camera anzi sicuramente lo farò off camera tu però frena trattore frena perché nel fiume non è giusto che tu ci vada a finire allora lasciamo qua tutto poi me la vedrò io off camera intanto voglio dire c'è solo da stivare tutto il il vario materiale dentro il nostro bellissimo magazzino allora le galline vediamo un attimino allora spostiamo questo bel bancalotto lo mettiamo qua per così almeno ok allora il grano gliel'avevo dato gliel'avevo dato perché era zero anche questo difatti siamo al 90 per cento non hanno ancora raggiunto il cento per cento quindi direi che possiamo anche proseguire però prima prima e dico prima allora consegniamo il john deere così almeno non ci scalano i soldi e anche il rullo perfetto allora vediamo un attimino la situazione prima di proseguire per i vari prezzi allora l'olio di oliva abbiamo olio di oliva che il prezzo buono è a maggio poi l'olio di colza a novembre l'olio di girasole a marzo aprile quindi potrebbe essere marzo aprile il buon momento adesso per vendere l'olio di girasole allora visto che siamo nel periodo di vendita del girasole togliamo tutto ciò che è olio d'oliva lo facciamo insieme così almeno becchiamo qualche soldino tanto ce l'abbiamo è inutile lasciarlo lì ne approfittiamo per fare qualche bel soldotto in più allora scarichiamo tutte le bottiglie e poi andremo a vendere ora vediamo di trovare di cercare verificare il prezzo migliore e noi ci togliamo dalle scatole l'olio di girasoli ottimo l'olio è stivato chiudiamo il nostro bel magazzino e adesso andiamo a verificare il prezzo dell'olio di girasole no sulla trebbia druidotto cosa cosa conviene niente ho acceso la trebbia mamma mia allora saliamo sul trattore diamo le cinghie allora vediamo l'olio di girasole allora ristorante red marble vediamo un attimo 59835 5555 5535 ora vediamo un attimino andiamo un attimino avanti col tempo vediamo negozio alimentari 22 siamo attenti a non fare delle basta basta sta scena no 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 ho sbagliato però aspettate 5748 siamo saltati direttamente a maggio ha fatto una cavolata ragazzi vabbè lo stesso dai niente purtroppo ho sbagliato tasto allora andiamo a vendercelo al ristorante red marble bowling che è quello la sua in cima e ho sbagliato ragazzi abbiate pazienza è così allora dopo una grandissima sfida per questo trattore si vede che non ce la fa neanche più a trainare un carretto così dobbiamo cambiare trattori siamo arrivati dopo una grandissima sfida sembrava dovessimo spaccare il mondo non so 22 all'ora e allora vediamo un attimino quanto riusci a guadagnare qua c'è una palla fantastico allora siamo a è fermati beh buono dai l'olio rende da dio ragazzi a dite quello che volete ragazzi l'olio rende veramente veramente da dio 60.000 euro così mamma mia mamma mamma mia tanta tanta roba allora visto che non uso mai gli operai adesso io ti faccio perché non ne ho voglia veramente di guidarti più ti faccio andare qua così e io mi dirigo in casa senza accendere il trattore per piacere e voglio andare a dormire cioè voglio proseguire nella stagione perché la stagione di raccolta appunto del frumento è giugno luglio quindi no frumento è luglio quindi orzo non ne abbiamo ma frumento sì quindi andremo direttamente a luglio penso io ok proseguiamo nella nostra bellissima stagione ma andiamo avanti il tempo ragazzi senza perdere tempo perché veramente la per perdere tempo inutile questa cosa qua io non capisco perché le sr non stanno dando più materiali mancanti no non c'è più di acqua porca palle vedete vedete queste cose mi fanno girare l'anima allora dai andiamo a dare subito l'acqua alle sr tra l'altro mi sa che anche la botte è già piena se non ricordo male no 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 i pomodori però non schiacciarli per piacere e non ci esce niente druido dormi eh mi sa che sei ancora no la botte è vuota mi sa che hai ancora i postumi del capodanno da smaltire da smaltire vero druidotto penso proprio di sì adesso ci metterà 30 anni a ricaricare d'acqua quindi ve lo taglio ragazzi allora andiamo col primo viaggio ma penso che non basterà mi sembra due due botti e mezza ci stiano dentro allora primo scarico ci siamo dimenticati ci siamo dimenticati e vabbè ragazzi che ci possiamo fare che ci possiamo fare dai vado a ricaricare la botte così almeno riempiamo bene la sera dai allora andiamo con il secondo viaggio sempre se ce la faccio a fare manovra perché mi sembra di essere abbastanza rincoglionito oggi pomeriggio posteggiamo anche qua la botte così almeno due viaggi dovrebbero bastare eh boom così ok dai riempiamo bene la serra e poi proseguiamo nel nella nostra avventura dai 23 22 dai 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 a tu sei arrivato bravissimo hai fatto un bel lavoro bene ora vediamo lo stato di crescita della situazione della situa 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 eh sì dovremmo essere quasi quasi a tiro praticamente quasi a tiro il 38 è tutta mai sa ragazzi madonna quanto costa il 38 se ciao mamma mia troppo allora e siamo arrivati a giugno giugno quindi fase di crescita siamo ancora in fase di crescita la nostra ho finalmente serra ha ricominciato a produrre perfetto direi acqua precisamente preciso lattuga ce n'è pochissima quindi direi che possiamo proseguire a sto giro io penso no diamo una salvata si dovrebbe essere l'ultimo gradino di crescita questo quindi per non saperne leggere né scrivere diamoci una salvata perché non si sa mai sto gioco come che reagisce ok dormiamo di nuovo e a sto giro dovrebbe essere pronto il frumento mi sa che è arrivata anche una grande offerta una grande richiesta scusate richiesta elevata a frantumatore ma solo a frantumatore sono richieste elevate cioè fatemi un po capire luglio ok bene siamo a luglio però luglio quindi luglio non ti va bene scusate ma quanti giorni sono con di nuovo tre giorni avevo impostato un giorno al mese andiamo più avanti luglio agosto chiamo ad agosto se ti piace più agosto andiamo ad agosto non ce n'è problemi ecco uova spazio esaurito orca paletta andiamo a vedere difatti ci siamo dimenticati anche qua di levare le uova liberiamo bene tutto il punto di spawn e poi intanto dobbiamo andare a vendere e quindi ci soldi ragazzi facciamo soldi allora lo spazio è bello più che liberato ok anche il frumento è cresciuto quindi direi che possiamo trebbiare al pallet del miele giusto bisogna stare attenti ragazzi e non farci veramente scappare queste cose perché sennò veramente buttiamo via buttiamo via dei soldi allora visto che è stata una puntata un po di transizione le ultime immagini ce le facciamo con la nostra bellissima trebbia che abbiamo lavato messo in recatto fino a oggi allora andiamo ad attaccarci la nostra bella barra che chissà dove l'ho messa mi la abbiamo fatto passare l'inverno alla barra in campo quindi vado a prendermela e attacchiamo a trebbiare appunto il campetto quello dietro la serra intanto che mi son collegato alla trebbia vediamo un attimino com'è la nostra situazione in campo allora qui il mais direi che sta venendo su bene le barbabietole sono spuntate tutte sono quasi pronte e qua abbiamo la nostra bellissima soia direi spettacolare abbiamo un 98 per cento di resa questo 2 per cento in più l'anno prossimo dobbiamo guadagnarcelo passandocelo il trinciastopi ora vediamo vediamo un attimino a voi andare a vedere vuoi andare a vedere un attimino l'oliveto perché mi hanno detto che l'erba deve resettarsi da sola ma io non ci credo ma a parte che adesso siamo troppo avanti no di fatti c'è sempre l'erba c'è sempre l'erba lunga anche qua siamo praticamente messi a 95 per cento di bonus alla resa perché 95 era avanti più l'altra volta vabbè non stiamoci a perdere in queste cavolate qui abbiamo il nostro bel miele e poi appunto immagazzineremo fino alla vendita avremmo dovuto venderlo a marzo però anche se ce lo stiviamo per un anno non ci cambia non ci cambia niente quindi visto che ok siamo a posto siamo arrivati ci stacchiamo la nostra bella barra e incominciamo a trebbiare vai avanti 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 perfetto direi ottimo allora ragazzi a sto giro faremo la paglia quindi abilita andana paglia perché intanto voglio mettermela via perché sapete benissimo che voglio incominciare con le mucche quindi è inutile visto che abbiamo il il frumento da fare ok perfetto facciamo una piccola manovretta bella 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 è che abbiamo un bel po di di frumento da metterci via comunque io continuo a dire ragazzi che la trebbia è piccolina bisogna cambiarla anzi mi sa proprio che lo faremo prima della della grande raccolta ok andiamo avanti facciamoci tutto il bordo 96% 8174 litri sono già pieno c'è qualcosa che non va ragazzi secondo me meglio no raga è impossibile che io sia già pieno è proprio impossibile fertilizzato boh vabbè andiamo andiamo prendiamo il carro prendiamo il carro allora lo muoviamo con questo bel trattore anzi visto che non abbiamo ancora acqua siamo anche pieni quindi bisogna stare attenti sempre non far delle cavolate facciamo che lo svuocchiamo noi nel carro intanto voglio dire siamo qua però io non non mi capacito di come posso essere già pieno io c'è come ho fatto fare 8000 litri di frumento in una striscia e mezzo bug 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 di produzione magari sarebbe l'ora che farming mi mi aiuta un po' bu bu raga io in tre adesso in tre passate riempio riempio la trebbia non so non lo so se dopo l'aggiornamento vi è successo anche voi fatemelo un po sapere perché a me sembra un po' una cosa strana e non alcuna mod non alcune mod dentro ma lo spero che sia corrotto almeno così riusciamo a guadagnare quello che non abbiamo guadagnato ma mi sembra strano dai finiamo già che ci siamo questo campetto e poi ci salutiamo ragazzi perché il tempo a nostra disposizione ormai è esaurito allora dai ancora due tre passatine possiamo anche diciamo così farle subito le balle senza aspettare vedremo io le balle devo farle e dobbiamo anche costruire un posto dove poterle stivare c'è entraci con i rimorchi senza manovrare la mano perché ci vuole veramente troppo troppo tempo per fare appunto tutte queste cose qua e prima della della grande trebbiatura mi sa che venderò questa trebbia e ne noleggerò una un po più grossa perché questa è piccolina ormai ragazzi viene stretta c'è poco da fare scarichiamo e facciamo l'ultima passata e poi salutiamo allora ultima passata perfetto così poi come imballatrice penso che prenderò la fast bail perché mi è sempre piaciuta come come imballatrice voglio prenderla perché è molto molto rapida se c'è da fasciare dei balloni con quella imballatrice lì non c'è nessun problema si fa in un lampo e mi spiace aver interrotto la produzione di lattuga ma che ci dobbiamo fare buon dai poi questa striccettina qua la farò off camera già che mi giro vi saluto ragazzi perché il nostro tempo a disposizione appunto è ormai terminato quindi come sempre vi invito ad iscrivervi al canale attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno lasciatemi un bel like e un commento con dei consigli appunto se ne avete qui da xdruid88 è tutto un saluto ragazzi e alla prossima ciao ciao